Buona giornata! Anche oggi siamo chiamati a scegliere nella nostra vita. Scegli il bene, scegli il bene. Anche se a volte tante cose dal profondo del cuore ti chiedono e ti dicono di fare diversamente, di scegliere diversamente. Allora scegli il bene nella concretezza di quello che stai vivendo. Cosa significa per me scegliere il bene oggi dove vivo, nella realtà in cui lavoro? Cosa significa per me scegliere il bene di fronte a quel figlio, di fronte a quel coniuge, di fronte a quel collega? Forse è qui che la nostra vita ha un significato ed è forse qui che nella coscienza ognuno di noi riecheggia, scegli il bene, evita il male. Quanto e come saremo grandi nel compiere questi gesti, che forse alcuni non se ne accorgono neanche, ma che tu sai il motivo ed è anche il motivo per cui ti costruisci e sei quello che sei, con la tua dignità e con il tuo orizzonte. Il Signore ti illumini e ti benedica.